eccoci ed ovviamente vi devo presentare anche le femmine destinate alle cove 2023 ragazzi qua abbiamo femmine gialle ok quindi abbiamo dentro due femmine intense e tre femmine brinate femmine gialle tutte assieme ed ovviamente abbiamo anche le bianche qui abbiamo tutte le femmine bianche ok perfetto ragazzi sentite i maschi stanno già andando a regime